GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E noi siamo arrivati insieme! Campioni insieme! Quante volte siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Ciao ragazzi, buon buon pomeriggio a tutti. Allora, quest'oggi voglio ancora parlarvi di Premier League ma nello specifico nelle due partite giocate oggi tra Huddersfield United, Huddersfield Manchester United e appunto Chelsea Watford. Allora, cominciamo subito con la partita dello United, terminata 1-1. I Red Davids che sbloccano subito il punteggio con McTominay poi complici diciamo un calo fisico, un diciamo un arretramento del proprio badicentro lo United si fa rimontare nel secondo tempo e Huddersfield appunto riesce a pareggiare. Solskjaer diciamo con dei cambi ultra offensivi cerca di ribaltare nuovamente il tutto ma purtroppo la partita termina appunto in pareggio. Con questo pareggio purtroppo lo United deve dire addio matematicamente alla possibilità alla possibilità di accedere alla prossima UEFA Champions League e quindi perché appunto guardando live la classifica l'United è a quota 66 punti e quindi ad una sola partita da giocare non può raggiungere il quarto posto che attualmente lo detiene il Tottenham a quota 70. Quindi l'United purtroppo per i tifosi di The Red Devils è matematicamente l'altra partita giocata oggi tra Chelsea e Watford finisce 3 a 0 per gli uomini del comandante Sarri è nulla. primo tempo è anche il secondo è una partita in cui in generale entrambe le squadre non si sono fatte mettere sotto dall'altra cioè nel senso entrambe le squadre ribattevano colpo su colpo nessuna del due ha avuto un vero e proprio controllo della partita nei confronti dell'avversario entrambe attaccavano subivano poi controattaccavano con delle con delle ripartenze. diciamo che la partita si viene viene sbloccata appunto dai blues nel secondo tempo diciamo all'inizio del secondo tempo su un calcio un calcio piazzato segno Loftus Schick che subentra Ancolo Kanté che nel primo tempo aveva avuto un infortino muscolare speriamo per lui spero vivamente per lui non sia nulla di grave perché appunto il Chelsea a parte l'ultima di campionato contro il Leicester ha ancora giovedì prossimo la il ritorno contro il Lentac Francoforte da giocare quindi è un giocatore inevitabilmente importante per il Chelsea quindi spero per Kanté non sia nulla nulla di grave nel poi diciamo il raddoppio blues sempre sul calcio d'angolo assegno David Luiz e poi intorno al settantesimo sessantacinquesimo il Watford ha delle occasioni insomma per cercare di riaprire l'incontro ma purtroppo non Kepa chiude più volte la propria porta e quindi si rimane sul doppio vantaggio per il blues blues che con Pedro diciamo insacca insomma inserisce per Iguain che fa il solito taglio alle spalle dei difensori avversari e segna appunto il 3-0 che chiude definitivamente la partita Chelsea che sempre guardando la classifica sale al terzo posto a 71 punti complice anche diciamo la sconfitta del Tottenham ieri in trasferta contro il Bermans e quindi diciamo non è ancora matematicamente qualificata in Champions perché appunto tutto bisognerà tutto si deciderà in base a quello che farà l'Arsenal oggi di scena all'Emilets contro il Brighton e quindi sarà una lotta fino all'ultima giornata apertissima per la prossima UEFA Champions League è nulla ragazzi sicuramente o più tardi o domani mattina domani pomeriggio insomma uscirà il video da parte mia dell'analisi tra la partita che si giocherà stasera tra Napoli e Cagliari e quindi ci vediamo al prossimo video a 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